Eccoci qui arrivati alla nostra lezione d'inglese. Allora, noi oggi cambieremo argomento. Le volte scorse abbiamo parlato di meccanica, abbiamo parlato di letteratura inglese, parlando anche di alcuni testi specifici dell'autore. Oggi invece noi parleremo della Prima Guerra Mondiale, parleremo delle cause che hanno scatenato questo conflitto, parleremo ecco delle fasi della guerra e parleremo anche della posizione delle varie potenze europee nei confronti di questo conflitto mondiale che ha sterminato molte vite. Allora, la lezione si svolgerà come al solito in inglese, dopodiché seguirà un riassunto in italiano. Poi ti chiederei ecco di riassumere la Prima Guerra Mondiale tenendo conto ecco di cause, di fasi e dal punto di vista dei paesi, anche della situazione economica e politica che ha preceduto l'Europa prima di questo conflitto. Ti farò vedere ecco a fine lezione quali sono i punti da focalizzare ed è spoiler nel riassunto. Ti ringrazio e ti auguro una buona lezione. So, today we are speaking about the First World War. We are speaking about the causes of this conflict and we are speaking about the situation between European powers between the war and we are speaking about the economic European powers. So, in 1819, Wilhelm II, the new emperor of Germany, began an international policy to turn his country into a world power. So, this international policy was called wealth politic. Well, wealth politic is a German world, it means world politics. So, after the Second Industrial Revolution, which began in 1817, the Germany increased and the East's economy was very important all over the world and it created a competition with the harder economic powers. So, the extension of the colonial empires was the cause for struggle for territorial markets and power between the European industrial powers. So, and before this conflict had the crisis took place. So, the Franco-Germans divided it because they fought for the annexion of Halsas-Lorraine by Germany in 1817 and their rivalry between Russia and Austria-Hungary developed for the hegemony in the Balkans and psychological rivalry developed between people. and then two powers which weren't European, United States and Japan joined the group in the world hegemonic powers. And, before this period of world, alliances were formed. So, Bismarck signed in 1882 the Triple Alliance. The Triple Alliance linked Germany with Austria-Hungary and the Triple Hilton was signed in 1907. made up of Britain, France and Russia. So, the rivalry between Austria-Hungary and Russia in the Balkans pushed Russia into the Alliance. So, and during the decade before the war other international crisis marked this period. So, we know a crisis which two crises which took place in Morocco another crisis took place in the Balkans and another so, the final crisis took place on June 28 in 1914 when the Archduke Franz Ferdinand was assassinated by Gaviglio Principe. He was a member of the Serbian nationalist organization called Black Hand. So, this event was the real reason of the First World War. So, now let's have a look at the date on which the European powers entered into this conflict. So, in in 1940 on 28 June Sarajevo Sarajevo Kerozis hashtag and we have already said that the Archduke Franz Ferdinand was killed by Gaviglio Quincy. So, on 23rd July Housia Hungary gave an ultimatum to Serbia on 28th July Housia Hungary declared war on Serbia on 30th July Russia started its general military mobilization on 1st August Germany declared war on Russia on 3rd August Germany declared war on France on 4th August Germany attacked Belgium and it was the beginning of the British declaration of war against Germany. So, now let's speak about this conflict. So, at the beginning of this conflict the Germans followed the Schlieffen plan. What was this plan? They attacked France through Belgium and they the French managed to stop the German attack in the Battle of the Mar. But it was a very long battle between Germany and between France. So, in this period, so, in 1915 and in 1916, the invitation of the war machines was an hard invitation because it was the cause of the death of several soldiers and of lots of people. So, lots of soldiers did during this conflict because of the invention of the war machine. So, this war spread to several fronts, the western front and the eastern front. and this war spread to other fronts, the Alps, the Balkans and the Middle Hest. On the western front, Germany fought against French and British in a long series of terrible battles. So, I have already said that the war between German people and between French people was so long because they struggled in different battles. The first battle was the battle of the man and the second one was the battle of Verde. During this battle lost their lives. Other battles are the battle of Feeds and the battle of Sons. So, in 1970 the United States entered into the war and in April Russian out of the conflict in December. So, at the beginning of this war, United States remained neutral and when did they hamper in this conflict? so, the Germans decided to undertake submarine shipping and they attacked several American ships. Lots of people lost their lives and the President Wilson decided to declare war on the Central Powers. So, Lenin signed the hamesties with the Central Powers in December, Russia left the war and in March 1918 Russia signed the Treaty of Brest-Liporsk with the Central Powers. So, the Germany concentrated its forces on the Western Hornk and the Germany was alone because its allies were exhausted for the military and economic laws. Bulgaria has the hamesties in September, Turkey in October and Austria Hungary surrendered in November. Allora, questo è il riassunto in inglese della guerra mondiale, della prima guerra mondiale. Adesso noi lo facciamo in italiano e ripetiamo una seconda volta in italiano che in inglese i concetti che devono essere affrontati durante l'assunto. Ecco, quelli che ti serviranno poi per memorizzare e per padroneggiare meglio l'argomento. Allora, cominciamo. Che cosa dobbiamo dire? Allora, all'inizio dobbiamo parlare delle cause della prima guerra mondiale. che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo chiaramente non parlare solamente delle cause che hanno scatenato questi conflitti ma dobbiamo fare anche un passo indietro. La guerra è stata scatenata nel 1914 quindi studiare e parlare degli eventi economici e politici che hanno preceduto questo periodo in cui molte persone soldati a causa anche della tecnologia che stava che si stava sviluppando in quel periodo persero la vita. Ora, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che nel 1890 l'imperatore della Germania William II iniziò una politica internazionale chiamata Weltpolitik politica del mondo una parola in tedesco attraverso la quale voleva trasformare la Germania in una potenza mondiale. Quindi che cosa dobbiamo dire? Cominciamo con questa data. In 1819 the new emperor of Germany William II began an international policy called the world politica. He wanted the Germany to become her world power. Quindi voleva che la Germania diventasse una potenza mondiale. che cosa era successo dopo questo periodo? Allora questo periodo è 1870 una data altrettanto importante perché iniziò la rivoluzione industriale. Quindi grazie alla rivoluzione industriale la Germania crebbe dal punto di vista economico e diventò un paese competitivo con le altre potenze europee. Soprattutto si ribaltò la posizione con la Bretagna e strappò alla Bretagna l'egemonia economica. Quindi dobbiamo dire che after the second revolution which began in 1870 the Germany increased and it became an important economic power. Quindi dobbiamo dire che l'economia si stava sviluppando its economy developed and it challenged British hegemony. E quindi questa è la posizione della Germania che ha avuto un ruolo molto importante all'interno della prima guerra mondiale la posizione politica ed economica. Vediamo che cosa succedeva. Nel Europa abbiamo in P le colonie che furono anche causa quindi l'estensione coloniale fu anche causa di guerra di territorio fu causa ecco di guerre economiche e di rivalità quindi cosa dobbiamo dire che l'extensione of the colonial empires was the cause of the struggle for territory markets prestige and power between the European industrial powers poi dobbiamo parlare anche della rivalità che esisteva tra i paesi una rivalità che è stata molto accentuata nel corso della prima guerra mondiale allora la rivalità in assoluto era tra la Francia e la Germania a causa dei territori Assazia e Lorena che la Germania aveva acquisito nel 1870 quindi dobbiamo parlare di France and Germany developed their rivalry because Germany in 1870 required the Assalto Lorena Assalto Lorena è una parola francese poi ci fu anche rivalità tra Russia e l'Austria Ungheria per l'egemonia nei Balkani possiamo dire che the rivalry between Russia and Austria Hungary developed for hegemony in the Balkans e poi dobbiamo dire anche che si sviluppò una certa rivalità psicologica tra il tra le persone quindi psicologico library developed between people poi dobbiamo praticamente parlare anche di due potenze che non erano potenze mondiali europee scusa non erano potenze europee ovvero gli Stati Uniti e il Giappone perché anche loro volevano formare la loro egemonia cosa dobbiamo dire anche loro combatterono per la loro egemonia parliamo ecco dell'interpipetegesia e della triplice alleanza allora la triplice alleanza era stata firmata da Bismarck nel 1882 vedeva prevedeva l'unione con la Germania con Austria Ungheria e con l'Italia quindi in 1882 biskma signed the triple alliance this alliance was made up of Germany Austria Hungary and Italy abbiamo poi la triplice intesa the triple entente was made up of Britain France and Russia it was concluded by 1907 quindi la triplice intesa formata da Gran Bretagna Francia e Russia invece fu accordata nel 1907 chiaramente ci furono anche crisi internazionali in Marocco nei Balcani dove la Russia e l'Austria Ungheria combatterono per restituire dalla Turchia la sua egemonia e poi parliamo della crisi finale ovvero la causa scatenante della prima guerra mondiale quando il 28 giugno del 1914 la ciduca Franz Ferdinand fu ucciso a Sarajevo da Gaviglio Princip che era un membro dell'organizzazione serba e black mani nere la traduzione quindi parliamo di altre crisi so before there was other international crises marked this evolution so two crises in Morocco two crises in the Balkans but the most important crisis took place on June 28 in 1940 the Archduke Franz Ferdinand was assassinated by Gaviglio Princip he was a member of the Serbian Nationalist Organization black hand e quindi ecco ripetiamo ancora cosa dobbiamo dire adesso ripetiamo ecco le date che hanno segnato questa guerra 28 giugno attacco terroristico il 23 luglio la Germania l'Austria Ungheria danno un ultimato alla Serbia al 28 luglio l'Austria e l'Ungheria dichiarano guerra alla Serbia il 30 luglio la Russia invece inizia la sua mobilizzazione mobilità militare abbiamo poi il primo agosto in cui la Germania dichiara guerra alla Russia il 3 di agosto la Germania dichiara guerra alla Francia il 4 agosto la Germania invade il Belgio e quindi questa fu la causa di dichiarazione da parte della Gran Bretagna verso la Germania quindi questi sono gli eventi principali della guerra vediamo adesso come si sviluppa questa guerra allora cosa dobbiamo dire dobbiamo dire che fu una guerra che purtroppo portò alla morte di molti soldati alla morte di molte persone si sviluppò anche la tecnologia militare quindi la nascita di nuove macchine da guerra che hanno causato la morte di molte persone quindi dobbiamo dire che inizia nel 1914 i tedeschi seguono il piano schliffen so the germans followed at the beginning of the war the schliffen plan cosa vuol dire che attaccano la Francia attraverso il belgio quindi i tedeschi attaccano la Francia e tra la Francia e la Germania comunque sia ci sono state molte battaglie che hanno portato alla morte di molti soldati abbiamo quindi la battaglia di Marne nel 1914 e poi ecco abbiamo altre battaglie che vedremo a breve quindi cosa dobbiamo dire dobbiamo dire che nel 1915 abbiamo ecco lo sviluppo di queste macchine da guerra che portano alla morte di vari soldati allora la guerra venne combattuta dove abbiamo venne combattuta tra Francia e Germania poi venne combattuta contro la Russia e abbiamo poi altri fronti dove venne combattuta fronti minori le appi balcani e e e Mildor Est allora cosa dobbiamo dire dobbiamo dire che tedeschi combatterono contro la Francia e la Bretagna in una serie di lunghe battaglie la battaglia tra tedeschi e francesi che ha portato più morti è stata la battaglia di Verdun combattuta nel 1916 quindi dobbiamo dire che Germans and French both in different battles so in the battles of Verdun in the battles of the Mars Poi abbiamo anche altre battaglie la battaglia di Ip e la battaglia di Somm Poi cosa dobbiamo dire di importante anche che negli anni successivi ci fu ecco un evento importante la Germania poi attaccò anche la Russia quindi oltre ad attaccare la Francia attaccò anche la Russia e nel 1917 gli Stati Uniti finalmente entrarono in guerra avevano mantenuto sempre una posizione neutrale per quale motivo dichiararono guerra perché i tedeschi attraverso degli attacchi sotto marini distrussero le navi americane con la perdita di molte vite e quindi il presidente Wilson decide di dichiarare guerra ed entra in guerra al stesso tempo si sviluppò in Russia una rivoluzione per il malcontento ecco di di questa guerra che avrebbe portato anche la perdita di molte vite e quindi Lenin firma l'armistizio con le forze centrali a dicembre così la Russia lascia la guerra cosa dobbiamo dire poi che nel 1918 la Russia firma il trattato di Brest Liv Force con le forze centrali quindi dobbiamo dire anche che the Germany struggle against Russia and in 1917 United States entered into this conflict because the Germans decide to undertake submarine warfare and they attacked shipping they destroyed several ships and lots of people left their lost their lives dobbiamo dire anche che quindi la la Russia lasciò la guerra e la Germania continuò chiaramente i suoi attacchi anche se i suoi alleati erano comunque sia distrutti dalla guerra a causa ecco dell'efferdita economica e militare a causa delle molte vite perse quindi diciamo che la Germania si ritrovò a combattere da sola contro l'Occidente e la Bulgaria chiese l'armistizio a settembre la Turchia un ottobre e invece l'Austria Ungheria a novembre di quell'anno si arrese anche essa a causa delle forti perdite economiche politiche e soprattutto a causa delle numerose vite che avevano perso allora quindi noi questo che dobbiamo dobbiamo comunque sia parlare della prima guerra mondiale non solo delle cause ma anche della situazione che la precedevano quindi della posizione della Germania delle rivalità delle espansioni coloniali dobbiamo parlare delle alleanze dell'intesa dobbiamo parlare cosa è successo nel 1914 15 16 e 17 e poi parliamo ecco dell'armistizio che hanno richiesto e firmato le varie nazioni io ti ringrazio e ti auguro un buon lavoro che va